Dopo l'evasione di cinque detenuti da un penitenziario portoghese di massima sicurezza il ministro della giustizia ha annunciato verifiche urgenti dei sistemi di sicurezza e di gestione delle 49 carceri del paese Ad esempio le torri di guardia non sono più in funzione sono state sostituite da un sistema di videosorveglianza a causa della mancanza di personale Questa è considerata una lacuna di sicurezza in quanto dalle torri gli agenti non solo osservavano i detenuti ma rilevavano anche qualsiasi movimento sospetto all'esterno del carcere Gli agenti penitenziari si sono anche lamentati di vedersi assegnare molteplici responsabilità per le quali non sono stati formati Non ha viature, non ha infrastructuras, non ha degradati, il sistema prisional è obsoleto I giorni mostram che a occupazione sta accima di 90% e già considerata di alto risco Acima del limite sono 24 establecimenti prisioneis, tra i quali il porto Joana Morão Carvalho, per a Euronews, in Lisboa Grazie a tutti!